Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi vi mostro uno dei miei mostri sacri, il Crepas, il Crepas Tornado 1000. Questo orologio ha ricevuto diverse recensioni, presentazioni in YouTube piuttosto che in altri canali, giustamente perché è un orologio che merita parecchio. Allora, un premetto, vado a specificarvi cosa significa Crepas, che è questo marchio microbrand, una casa costruttrice di orologi spagnola, è un acronimo, significa compagnia reloiera e specializzata per attività subacqueas, come avrete capito, fa diver. Non solo, questa casa, la Crepas, con questo bellissimo logo di un'elica marina, un'elica nautica, ha due sottobrand, due marchi suoi proprietari, che è la Tactico, che realizza orologi in stile militare, e l'Almirante, che invece li realizza in stile navale. Almirante in spagnolo significa ammiraglio. Comunque, torniamo alla presentazione di questo orologio. Questa è la confezione tipica della Crepas, a cui troviamo questo, che io reputo, bellissimo orologio, che altro non è che un'ommage al più famoso Sandoz Typhoon, ormai non più prodotto dalla Sandoz da diverso tempo e sul mercato, proprio perché è molto bello, conosciuto, famoso e ricercato dai prezzi inavvicinabili. Ma la Crepas non ha voluto creare un falso, un orologio dal basso costo, anzi, ha creato un orologio che mantiene, oltre che l'aspetto, caratteristiche tecniche qualitative, al pari, se non in alcuni casi, anche superiore all'orologio che va ad omaggiare, come per esempio il Superluminova C3 che gli dà una luminosità notturna notevolmente superiore. Adesso vediamo cosa c'è all'interno della scatola. Dal lato dell'orologio vi è l'attrezzo cacciavite non è che serve per togliere i perni per i vari cinturini, nonché un cilindretto contenente i perni per i vari cinturini. Perché viene fornito, oltre che con il suo nato di colore arancione, viene fornito anche con un perlon, sempre di colore arancione, tutte con la fibietta marchiata Crepas, ma anche un bellissimo mesh, un mesh con un diver, sì, un bellissimo mesh sempre marchiato Crepas, ma che vi posso assicurare che su questo diver, questo mesh, ci sta benissimo. Lo rende davvero, davvero elegante, cosa che è già di per sé l'orologio. Orologio che è fatto in cassa monoblocco d'acciaio, sia satinato che lucido. La sua ghiera girevole ha 60 scatti, anche questa lucida, con la stessa sagomatura del orologio che va a omaggiare. Poi all'interno troviamo la card di garanzia timbrata e datata dalla Crepas. Questo manuale, che più che un manuale di istruzioni è un vero e proprio libretto che va a spiegare l'oggetto che vi avete acquistato. Un panno, ovviamente marchiato Crepas, è definita la dotazione con l'orologio, che comunque non è poca cosa, perché per un orologio di una determinata qualità acquistare tutti questi gadget o oggetti sempre di questa qualità ne alza notevolmente il prezzo. Allora, il Crepas Tornado 1000 viene costruito in 399 pezzi, quindi è una serie limitata, in quattro colorazioni, c'è il nero, il grigio, l'arancione e il giallo. Io ho comprato l'arancione che era quello che mi piaceva di più, ma ognuno si può acquistare la colorazione che più gradisce. Inoltre, acquistando un orologio, proprio perché è un'edizione limitata e non se ne trovano così tanti, è possibile acquistare i quattro quadranti e i vari cinturini degli altri colori, così che acquistando un orologio Crepas è possibile trasformarlo nelle quattro colorazioni differenti. Veniamo un attimo alle caratteristiche tecniche. Caratteristiche tecniche che mantengono alta la qualità di questo orologio, perché all'interno monta un validissimo e super collaudato ETA 28242, movimento svizzero che non ha bisogno di spiegazioni e tra i migliori di questa fascia sul mercato. Come detto, è in acciaio finemente lavorato, acciaio 316L. La cupola, che come potete vedere non è un vetro piatto, ma è una vera e propria cupola alta 4 mm e spessa più di 3 mm, e fornita l'orologio che è il Tornado 1000 può essere dotato o di plexiglass, come nel mio caso, o di vetro zaffero. La differenza sta nel costo. Al momento dell'ordine è possibile ordinarlo con questi accessori in plexiglass a 475 euro più IVA, oppure con il vetro zaffero, sempre a cupola, a 575 euro più IVA. Devo però dire, riconoscere che questi sono i prezzi indicativi e indicati dalla Crepas, non voglio togliere le pellicole, in quanto in realtà lo si trova completo in internet tra i 450 e i 500 e tutto. Allora, dicevo, ha una cassa di 43 mm, non molto più lunga per via della corona, in quanto il lato destro è leggermente, il lato che contiene la corona, è leggermente più largo, se guardate qui, perché ha queste due anse a protezione della corona. Quindi la dimensione è di 43-44 mm finito. 43-44 mm che però sono molto molto ben congeniati, già questo da tantissimi anni, già dal suo predecessore, perché ha polsi piccoli, medi e quant'altro, non lo fa apparire così massiccio. Adesso cerco di essere il più breve possibile, vi mostro un'immagine che ho fatto io con Penta, il computer, in cui vi sono sia il Crepas che il Sandoz. Come potete vedere la differenza tra i due orologi quasi non esiste, perché entrambi hanno questo bezel in acciaio lucido, liscio, con le tacche, le stesse uguali identiche misurazioni e tacche, quindi forma e eleganza. Ha stesso quadrante, quasi gli stessi indici sono molto più lineari quelli del Sandoz e gli indicatori di colore leggermente diverso da parte di quelli del Sandoz. Solo il colore, esattamente come questo indice meno cicciottello di quello del Sandoz, in più rimangono i due indici a ore 12 e ore 16 molto grandi e la finestrella per la data. Sul fondo, come vedete, la stessa vite che libera il movimento, perché, ripeto, è cassa monoblocco, quindi non ha il fondello a vite o incastro, assolutamente, per poter resistere a mille metri è stato fatto cassa monoblocco con la vite, dove la Crepas ha fatto questa freccia con l'indicazione Danger, ma seppur quasi perfettamente identici, forse il Crepas mantiene una sua originalità rispetto all'orologio che va a omaggiare. Bellissimo il Sandoz Typhoon, ma bellissimo anche il Crepas Tornado 1000. Rimetto a posto la telecamera assicurandomi che stia riprendendo l'orologio e non me, che voi siete qua per l'orologio e non me. Come dicevo, l'orologio è dotato di questo super luminoso C3 che lo rende molto, molto luminoso in notturna. La Crepas, come detto, esiste da dieci anni sul mercato e fa orologi molto, molto apprezzati dai diver, cercando anche di omaggiare o mantenere determinate caratteristiche di orologi del passato diventati famosi e oggi non più prodotti, ma è proprietaria anche di due sottobrand, due marchi propri con cui produce un'altra tipologia di orologi. Per esempio la Crepas è proprietaria anche di tattico che fa orologi in stile militare e di almirante che fa orologi in stile nautico navale. Almirante in spagnolo significa ammiraglio. Entrambi molto apprezzabili. Io ho un almirante, anzi l'unico almirante esistente, il Navigator 120 Brazzas che mostrerò in un altro video. Allora, come dicevo, brand ormai straconosciuto e da diversi anni sul mercato, molto apprezzato dai diver, molto apprezzato dagli appassionati di orologi che riescono a ottenere caratteristiche di orologi come questi a prezzi contenuti perché le caratteristiche di orologi simili sono a prezzi molto molto più importanti. Allora, se vi è piaciuta la mia presentazione mettete un like. Se avete qualche domanda da fare postatela, risponderò appena possibile. Io vi ricordo che non sono né un youtuber né un commerciante che non guadagna sugli orologi che presenta, io tento di presentarvi a uno a uno, nel migliore dei modi, tutti gli orologi che posseggo in quanto mi sono piaciuti, in quanto rispecchiano i miei gusti personali e quindi li mostro perché magari anche voi cercate un orologio simile con determinate caratteristiche e volete magari vederlo a un video. E tornate al tea che oggi ha la febbre piccolina e niente, la presentazione l'ho fatta, spero che vi piaccia, mettetemi un like in tal caso. Ciao ciao! Ciao!